Nelle campagne intorno a Monaco di Baviera abbiamo provato l'ultimo nato in casa Ford, il Transit Custom. Transit Custom nasce da una piattaforma tecnologica completamente nuova, ha nuovi motori, il 2000 turbodiesel di tre livelli, 130, 150 e 170 cavalli, due cambi, uno un 6 marce manuale e un 8 rapporti automatico. Alla guida diciamo che la guida è molto piacevole, piacevole come guidare una berlina di livello, una monovolume di livello, molto bene insenorizzata anche se un po' di rumore si sente, molto sospensioni perfette, comodità interna, noi abbiamo provato il 150 cavalli con cambio manuale, devo dire con una coppia, forse ci saremmo aspettati qualcosa di più dalla coppia, ma lo spunto è buono, anche il cambio è marce lunghe e facilmente inseribili.